Buongiorno ragazzi oggi vi farò i fagioli come li chiamiamo noi con l'accia L'accia è il sedano Da noi si dice in Sicilia con l'accia Però dato che voi non lo capite l'accia cosa significa il sedano Faccio i fagioli così Allora stamattina io ho messo i fagioli in acqua calda Per farli gonfiare un poco così hanno la cottura più breve Adesso li preparo Questi sono mezzo chilo di fagioli E io li verso nella pentola a pressione Però se non c'è la pentola a pressione Una pentola normale Solo che vogliono di cottura di più Se non c'è la pentola a pressione Allora io ho sbucciato una bella cipolla E del sedano Ora aggiungo tutte e due cose Taglio la cipolla grossolanamente Perché si cucina in fretta la cipolla E gli verso anche il sedano Gli aggiungo del sale E del pepe Gli aggiungo l'acqua Ora gli metto il coperchio E ora li metto sui miei fornelli Che devono rimanere 20 minuti Ragazzi come vi ho detto I miei fagioli già sono cotti I miei fagioli Vi faccio vedere L'impiattamento Ci mettiamo un filino di oliva E questi sono i miei fagioli In siciliano si dice con l'accia In italiano si dice con il sedano Ok? Va bene Arrivederci